perché lui ha detto c'era confusione a casa della sposa e lui ha detto qua come si stava qua cioè noi bene lo spoglio non sapeva dove andare e cominciava a dire ma quella strada la sua stradina questa strada dove si va perché e poi perché sbagliava e era fuori 3 3 4 5 5 6 Sì, è bellissima. Sì, è bellissima. Sì, è bellissima.